Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono qui sopra, sopra il mio monte, diciamo, insieme al mio pupazzo di neve Che guarda, sta guardando, ciao amico, benvenuti in live, benvenuti in live Benvenuti in questo, no, sei andata, si vergogna, si vergogna Il nostro amico si vergogna, aspettate che cambio inquadratura prima che vomito, ok Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e siamo in un nuovo episodio della Maullocraft E' un episodio del numero... non me lo ricordo E allora, signori miei, io sono qua sopra perché sono stato alla farm di pesca Che ho recuperato le due targhette Perché dobbiamo andare a dare dei nomi a questi due bellissimi pupazzi di neve Allora, ieri, nel video di ieri Mi avevo chiesto di suggerirmi dei nomi da dare Per dare questi pupazzi di neve dei nomi E l'unico che mi ha risposto è stato Janko Quindi ringrazio Janko, grazie da parte di Papa Maullo E allora, i nomi suggeriti sono stati Il primo... cancelliamo questo Il primo segno di neve si chiamerà Gino Abbiamo il pupazzo di neve Gino Chi è che non conosce Gino il pupazzo di neve? Il primo sarà Gino E il secondo... aspettate che cancelliamo qua E il secondo è Gigio Gigio A posto, anche il secondo pupazzo di neve è nominato Allora, torniamo su Mamma mia, sto fare... scendendo in questa casa è terribile Allora, saliamo su Allora, tu sei Gigio Gigio Vieni qua, Gigio Gigio Beccatelo lì Ciao Gigio Guarda, mi sta sorprendendo, è contento Adesso è sempre un po' con l'occhio storto Però è contento, guarda, a me non mi sta guardando Hai fatto tanta bella neve Brava amico mio, bravo, ottimo lavoro L'altro invece Scendiamo giù, scendiamo giù, scendiamo giù Velocemente, velocemente Prendiamo la discesa rapida, signori mi Dovrò farci un fiume, una cascata Dovrò fare una cascata magari da qualche parte In modo tale che posso scendere velocemente Andrò fare... aia Il giro di tutta la casa, certo E poi mi spacco le ginocchia così Cos'è questa cosa è galleggia? Oh, del nero di seppia, ma non mi serve Andiamo velocemente da... Dal nostro amico Gino Gino? Gino? Sento di nuovo gli stani rumori, raga Ma che sono sti rumori? Non lo capisco Comunque, Gino continua a non voler lavorare Non mi fa neve, è sempre di un'antipaticità unica Allora, signori, cosa facciamo in questa live? In questo video? Sono scemo, raga, sono scemo Andremo a costruire il magazzino O quantomeno inizieremo a mettere le basi per il magazzino Questa è la nostra bellissima torcia Che ormai rimarrà qui, storicamente Io direi che il magazzino lo potremmo andare a costruire Qui c'è la voragine Qui c'è la voragine Qui c'è il lago Lo potremmo fare qua il magazzino, signori miei Tanto sto lago a che ci serve? Non ci serve a nulla Chiudiamo questa zona qua E lo costruiamo qua Come sarà impostato il magazzino? Il magazzino sarà un'enorme cassa, signori miei Che mi è stata suggerita anche questa da Iancco E anche il mio uomo regia Allora Faremo una grande cassa Sempre stilizzata più o meno Come vengono a noi brutte le cose E niente ragazzoli E praticamente sistemeremo la cassa Con tutti i materiali lì dentro Carini e coccolosi Detto questo ragazzoli Io sistemo tutto qua la terra Mi creo un sacco di legno Perché mi serve un sacco di legno E ci vediamo dopo Sempre qui per continuare l'episodio Ciao Ok ragazzoli Allora Io ho più o meno preso le misure Ovviamente ci troveremo da questo lato Della nostra piazza Più o meno le misure sono queste di qua Signori miei Ho dato un attimino un controllo Diciamo Ho creato tutto quanto il legno Che in teoria dovrebbe servirci Quindi Non perdiamo tempo Signori miei E iniziamo Allora Secondo i calcoli che ho fatto io Che ovviamente Sicuramente saranno sbagliati Noi dobbiamo fare Una prima base di legno scuro Qui ci saranno le porte Che le lasciamo così E qui Così Tutto bello a giro Un giro così Di legno scuro Che andiamo a fare Tutto quanto Signori miei Così Ovviamente Farò dettagli raga Perché capisco che Tutta la costruzione Proprio il video Magari il live È diverso Almeno ci facciamo accompagnare Tra un blocco e un altro Ci facciamo una chiacchiera Vedi se cato di sotto Una chiacchiera Così magari È più Noioso Magari da vedere Allora Fatto questo Signori miei Noi dobbiamo salire Di Aspetta Vedere un attimo Dove è il disegno Che avevo fatto Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dai Pronti a sfacellarci le ginocchia Praticamente 1, 2, 3, 4, 5 5 Aspettate 1, 2, 3, 4, 5 Infatti A 5 dobbiamo fare una linea Una linea In tutte e tre le direzioni 1, 2 Che poi 5, 6, 7, 8 E questo Andiamo a chiudere Andiamo a chiudere così Raga Tac 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 E penso Penso Tac Allora 1, 2, 3, 4, 5 Dovremmo unirci con quella di là E forse Se i calcoli sono giusti dovremmo unirci Mi sembra che siamo leggermente più bassi Signori miei Bella così Allora Di quante siamo saliti? Vabbè tanto poi dobbiamo metterci l'altro Era la stessa altezza? Sì, dobbiamo semplicemente unirci Perfetto, allora ritorniamo qui Ok Ok Mettiamo questo di qua E lo dobbiamo unire con quel Però non tutto, dobbiamo metterne semplicemente 3 3, 1, 2 Ne mettermene un altro No, una torcia, brutto scemo Uno di questi, ok La dovremmo già esserci a 3 Uno di qua Uno di qua E qua mi metti l'ultimo Mi metti l'ultimo Ci siamo più o meno? Ci somiglierà una cassa secondo voi Ora com'era non ci assomiglia per nulla Però abbiate fiducia raga, abbiate fiducia E ricordatevi Asta che cosa è brutta in questa serie Asta che cosa è brutta in questa serie Allora qua chiudimelo così Ok Chiudimelo così Così, così Così, così Asta che cosa è brutta raga È fondamentale Se no non andiamo da nessuna parte noi Ora questo che è già un po' più chiaro Un po' più chiaro È venuto pure il ragno A vedere che stiamo a fa' Ottimo Dobbiamo mettere questo qui Ok Ovviamente raga io faccio questa prima parte Dopodiché taglio il video E vediamo un attimo il risultato finale Di questa miga checchetta Che sta venendo fuori Mi riesco a mettere qualche blocco qui a chiudere È bello così Aspettate, aspettate Sfruttiamo, sfruttiamo la botta di intelligenza Sfruttiamo la botta di intelligenza Dai, dai così Dai così Dai così Fermi tutti Qui dobbiamo fare Dobbiamo mettere questo così Ok Fermo lì Qua mettiamo quello più chiaro 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 E poi il chiaro lo mettiamo più sotto Ok Di là qua ci arrivo Perfetto Qui andiamo a chiudere con questo La sto facendo di legno raga Perché in teoria la cassa è di legno Dico Di cosa stiamo parlando La cassa è di legno signori miei Quindi La sto facendo di legno In modo tale da essere il più possibile Simile Alla realtà Ma non sarà mai simile alla realtà Perché non riusciamo mai a fare Le cose giuste Per come andrebbero fatte Un esempio Palesa Della mia teoria Questa torcia Simile Questa Non è per nulla una torcia Però va bene Allora Fermi Fermi Fatemi un attimino completare Fatemi un attimino completare Raga Fatemi un attimino completare Allora Considerate che lì ci dovrà essere la porta Considerate che lì ci sta Ci sta raga Dai ci sta Ci sta Molto in maniera fantasiosa Ma ci sta Allora Facciamo che Faccio un taglio Signori miei E ci vediamo Quando ho completato Gli altri tre lati Praticamente Va bene Così non mi annoio ulteriormente Di quanto devo salire? Di otto Mamma mia Se cado là E muoio raga Rido tantissimo Rido tantissimo Per non piangere Ok ragazzoli I lavori procedono Iniziamo a mettere questi Ho finito di fare il giro Del legno più scuro Diciamo Quindi iniziamo a chiudere Questa parte di qua Così vediamo In tre dimensioni Come è venuta Più o meno La vediamo assieme Come è venuta Se non casco di sotto Ok Va bene Mancano ancora qualche altro pezzo Qualche altro pezzo ancora manca Però ora Con calma Piano piano Lo sistemiamo assieme Raga Lo sistemiamo assieme Se no mi fate lavorare da solo Se mi fate lavorare da solo Che gusto c'è? Io sono scemo L'ultima parte da montare L'ho lasciato Questa vicino Al dirupo Perfetto Sono un amante del rischio Sono un amante del rischio Perfetto E mo ci buttiamo Perché non abbiamo altro da fare Si scende Perfetto Iniziamoci a mettere pure Tutti questi qua A giro Signori miei Magari li mettiamo giusti Però Ok Dai e dai e dai E dai e dai Mettiamoli tutti quanti Non lo torcio Ma che paranoia Sto tizio che mette sempre torcio A parte il fatto che Ho visto che mi si è cambiata la skin Raga Forse penso perché Non siamo più il Steve Ma siamo la bella bionda Che ogni tanto si vede Nell'altro personaggio Praticamente quello femminile Non so perché me l'abbia cambiata Però va bene Gli piace così E va bene Allora Prima che cala la notte Io devo aver finito Il giro di questo legno Signori miei Così andiamo a dormire E poi quando ritorniamo qui Vediamo effettivamente Il risultato Di questa cassa Di questa cassa Aspettate Qui mi serve Vediamo mettere l'altro pilastro Che ci mancava Perfetto Dai e così Dai e così Oggi faremo In questo piccolo video Signori miei In cui poi vi augurerò La buonanotte Faremo una sorta di Facciamo tanto la cassa Poi l'organizzazione Tutta una baratana Perché comunque Viene bella grossa Quindi verranno tante casse Da infilare qua dentro Per infilarci tante casse Signori miei Mi sa che dovremmo fare Anche una scaletta Per salire al piano Di sopra Vedi se mi finisce No il legno Dovremmo averci Il legno È l'unica cosa Per fortuna Non ci manca Per fortuna Non ci manca Ok Abbiamo fatto Ci manca solamente là Andiamo 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 Uno E due Perfetto Vediamo come è venuta Raga Dopodiché corro Per andare a dormire Dai Ci sta Ci sta Ci sta Sembra Un Non so che cosa Un cubo Praticamente Una piccola Non ha molto All'aspetto di un magazzino O di una casa Si può migliorare Si può migliorare Però già è un buon punto di partenza Mi metti due torce però zio Mettimi due torce Un giorno in questi raga Dobbiamo fare tutta l'illuminazione Dobbiamo fare tutta l'illuminazione A questo mondo Signori miei E sappiate che Sarà un video molto lungo Va bene Allora io torno a casa Vado a dormire E dovrì che facciamo le ultime due parti Pavimento Tetto E le varie casse E ci vediamo nuovamente qui Per chiudere il video Ok ragazzoli Allora Il tetto l'abbiamo fatto Il tetto l'abbiamo fatto Signori miei Dobbiamo andare a levare nuovamente Tutta questa terra di qua Perché sinceramente Il pavimento Di terra Non mi piace Per quanto possa essere carino Ma mi fa Letteralmente cagare E quindi Leviamo tutto questo pavimento Di terra Se ci riusciamo Raga E ci andiamo a mettere Il legno pure qua sotto Ora Non penso di avere Abbastanza legno di quercia Per riuscire a fare Tutto l'ambaladan Di qua Quindi a terra Metteremo la betula Raga A terra metteremo la betula Riesco ad andare un po' più avanti Sì No Ci sono andato direttamente a mollo No Non andare oltre cortesemente Ok Ovviamente Raga La sistemazione delle casse E eventualmente La scala per fare il secondo piano La faremo in un altro video Raga Cose con calma Allora Cose con calma Allora Io ho 38 di betula E 49 di quercia Va bene Abbiamo optato allora Per fare la quercia Abbiamo cambiato programma Della sistemazione Raga Certo se poi io sbaglio Per ammettere i blocchi Dico Parliamone Allora Questo va messo lì Dai 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 Veloce 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 Zio Pavimenta 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 Devi essere come il super In 20 blocchi Sennò poi mi bastano Non mi bastano mai nella vita Ma non mi bastano mai nella vita proprio Mi ha fatto solamente mezzo lato Va bene Piccolo taglio tecnico Raga Recupero l'altro legno E sempre ammettere Se torce Recupero l'altro legno E ci rivediamo Proprio qui In questo punto preciso Eccoci qua Eccoci qua Precisi nel punto preciso di prima Raga Precisi Precisi nel punto di prima Chiudiamo questo pavimento Così l'acqua Non dovremmo più avere Forse qualche problema di umidità Perché tutto sto legno Mamma mia che nervoso Quando sbaglia a mettere i blocchi da solo Mi viene un nervoso Allora Devi lavarmi questo Grazie gentilissima Devi lavarmi anche questo Perfetto Allora signori miei Fatto questo Io leverei anche questi Sinceramente Ok Ci metterei questo scuro Che sta più carino Sì Forse sì Dobbiamo mettere una crafting table Anzi ne mettiamo due Di quanto abbiamo fatto Uno Due Tre Quattro Cinque Leviamo questo Leviamo uno Non ci credo Non ci credo Non ci credo Mi dà della terra Grazie Due bellissimi crafting table Così coloriamo un attimino il pavimento Perfetto 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 raga Doviché Le porte così No facciamole di questa le porte No Non mi piacciono per nulla le porte di questa No 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 Cambio di programma Facciamo le porte normali Raga Le facciamo le porte di Di quercia Sì Anche se non sono proprio bellissime Però ci vanno bene queste Le mettiamo Così Dai ci sta E poi signori miei All'interno Andremo a mettere tutte quante le casse Facciamo un po' Facciamo Botta di casse Quattro casse Possiamo farne Perfetto Le casse le andremo a mettere così Signori miei Faremo una Due E poi uno E due Le faremo tutte così Le casse raga Qua ci verrà messo Il Il quadretto Con il contenitore Che ci sarà Dentro Il Queste casse Con l'oggetto Che sarà all'interno delle casse Il contenitore Che casse Però l'ha detto Il contenitore Cos'è il contenitore Le casse sono dei contenitori Brutto scemo Allora Quindi possiamo fare altre sei Spardiamoci tutte queste casse Raga Così Uno Due E così ne abbiamo ottenuto Da questa parte La stessa cosa di quattro E così Tre Così Così E poi vabbè Ce ne è rimasta una Ce le conserveremo E poi potremo andare a salire Raga Voglio quante casse Possiamo mettere qua A massimo possiamo fare Un'altra fila qua Un'altra fila sopra E poi vedere di fare una scala Per poter salire al piano di sopra A inventarci qualche altra cosa Comunque ragazzoli Detto questo Vi ringrazio per partecipare Alla live Alla live Al video Vi ringrazio per i commenti Per i like Per i suggerimenti Ditemi se c'è mai eventualmente Qualche maniera Per migliorare questa specie di cosa Se riesco a non vomitare Riesce zia a uscire da questa porta Perfetto Bravissimo Questa specie di cassa Un poco stilizzata Signori miei Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti Detto questo Io vi ringrazio per aver partecipato A questo video Noi ci vediamo domani Sempre qui sul canale Per qualche altro contenuto Detto questo Detto questo ragazzoli Una buona continuazione di serata E niente Ci vediamo domani Bella raga Ciao Ciao Come se fosse La fine del mondo Ciao